Oggi cercheremo di utilizzare la scienza per risolvere uno dei problemi che affliggono l'uomo che possiede una stufa o un caminetto per scaldarsi da anni e anni. Parlo di portare la legna in casa. Sapete quell'attività che in famiglia bene o male nessuno vuole fare, no? Andiamo fuori, prendiamo i ciocchi, fa freddo, li portiamo dentro. Vediamo un po' come possiamo farlo in modo un po' più facile. Dunque cerchiamo di farci aiutare per risolvere questo problema dalla curva forza lunghezza del muscolo scheletrico. I termini difficili usiamoli subito all'inizio così poi non ci pensiamo più. Dunque, il muscolo scheletrico sono tutti i muscoli del nostro corpo che muoviamo in modo volontario, quelli che alleniamo in palestra, tanto per intenderci. La curva forza lunghezza non è altro che la relazione tra la lunghezza del muscolo e la forza che il muscolo è in grado di produrre. Il muscolo normalmente ha tre modi di contrazione. Il muscolo lavora in concentrico quando si accorcia e produce forza. Lavora in eccentrico quando si allunga e produce forza. E infine lavora in isometrico quando produce forza senza spostarsi. Un po' come se spingete contro un muro, a meno che non siate in grado di muovere i muri. Dunque, se ci concentriamo su quest'ultima modalità, quella isometrica, il muscolo produce un livello di forza che è differente per le diverse lunghezze. Prendiamo il bicipite, che è questo muscolo che muove l'avambraccio. A questa lunghezza il muscolo produce poca forza. A questa lunghezza produce più forza e a questa lunghezza meno forza. Questa è appunto la curva forza-lunghezza di cui vi parlavo prima. Ora, nel momento in cui la nostra mamma, il nostro papà o qualcun altro ci chiede appunto di andare fuori e portare la legna, normalmente ci mettiamo in questa posizione e veniamo così caricati da tutto il peso. Se utilizziamo le informazioni che abbiamo appena imparato relative alla curva forza-lunghezza, cerchiamo invece di metterci in una posizione che è più favorevole per portare la legna. Quindi questa. Inclinando appunto il gomito in questo modo, la lunghezza riesce a produrre il massimo livello di forza. Grazie. Grazie.